Viene dalla Croazia il giudice Javor Davor Iniziamo pure l'ingresso con un pastore tedesco Un pastore tedesco a pelo corto, un pastore svizzero bianco Cane lupo cecoslovacco, ne abbiamo visti tanti a San Rossore in questi giorni Bearded Collie, pastore australiano Allora una rettifica, il secondo è entrato il pastore di Farlock Mentre poi è entrato un lupo cecoslovacco Poi un Bobtail Bovaro delle Fiandre Pastore di Boss Un Border Collie Poi abbiamo un pastore scozzese a pelo lungo Un pastore catalano Un Corgi Pembroke E poi un Welsh Corgi Cardigan Un Corgi Pembroke Bene di nuovo tutti al centro Già stata fatta una prima selezione Resta dentro anche il nero Kelpi Che è il penultimo Da destra per chi guarda dalla tribuna Adesso il giudice Davor Osserva i cani in movimento Il Bearded Collie è il primo Seguito poi dal pastore australiano Up and down per il pastore australiano E quindi il Sarlos Le differenze tra una razza e l'altra Talvolta sono talmente sottili Che è necessario osservare Anche frontalmente il cane Poterlo vedere bene nei dettagli Per distinguerlo da un'altra razza Ed ecco il Border Collie Anche questo è molto conosciuto Molto popolare Per le attività ludiche e sportive Quindi di cane da conduzione Del grege Anche appunto come diceva Lo speaker Il Sarlos Ha un'origine olandese A differenza del Pastore Del cane del lupo Cecoslovacco Che ha Ha dei tratti simili Che ha invece un'origine Della Slovacchia Nel Ring in up and down Il Kelpi Che è il penultimo soggetto Che viene Giudicato in movimento Da Javor Davos Giudice Croato E concludiamo con Il Pastore scozzese A pelo lungo Ne abbiamo visti Nel Ring Anche a pelo corto Meno Meno conosciuti Meno famosi Dell'immagine Del ricordo televisivo Che abbiamo di questo Cane E anche Le ultime generazioni Nonostante Quella serie televisiva Non si veda più Ormai da anni Si è trasmesso Di padre in figlia Di madre in figlia L'abitudine di chiamare Questi cani I lessi Carrellata Del giudice Davos Con il suo sguardo E direi che ci siamo Vengo io da lei Giudice Così Terzo Classificato Il Bearded Collie Secondo Classificato Il Pastore Australiano Vince Border Collie Grazie Grazie agli altri E complimenti Al Border Collie Che vince Il Gruppo Uno Si preparino I cani Del Gruppo Due E intanto Chiamiamo Vicino a noi Il Giudice Che svolgerà Nel Ring Il suo lavoro Era già Nel Pre Ring Pre Ring Prego Così Facciamo l'ingresso Come dovuto Con la bandiera Ultime foto Grazie Grazie Grazie.